Che cos'è questo? Guardatevi intorno un attimo. Quanti oggetti ci sono intorno a voi che in verità chiamate con lo stesso nome? Ad esempio questi sono due esempi di sedie. Li chiamo allo stesso modo, ma quanto sono diversi? E' proprio per questo che noi siamo qui, per andare oltre il modello bicchiere, perché la fantasia è proprio la capacità di andare oltre quello che ci appare scontato e immediato. Grazie al linguaggio che approfondisce sempre di più questi che possiamo definire dei solchi mentali, si creano dei modelli. Questi solchi che si sono creati non sono altro che le tracce dell'abitudine, della quotidianità e quindi dov'è che sta la fantasia? Grazie a tutti.